E' la battaglia al coronavirus, il filo rosso che lega i premiati delle benemerenze di San Siro del 2020. Dopo una lunga riunione dei capigruppo, terminata all'ora di cena, il mezza barba ha definito i quattro nomi nativi che saranno insegnati della medaglia col reggisore il prossimo 9 dicembre. Si tratta in primis del Policlinico San Matteo, una scelta mediata dopo aver a lungo parlato del primario di malattie infettive Raffaele Bruno, candidato dal sindaco, da Forza Italia e dal consigliere di Pavia Ideale, Daniele Travaini. E' prevalso alla fine la volontà di non indicare un solo medico, in sintesi. Premiato anche il coordinatore della protezione civile di Pavia, Andrea Salvini, appoggiato dal gruppo di Pavia Prima. Le altre due medaglie saranno invece alla memoria. Si tratta del professor Andrea Stolfi, scomparso di recente, avvocato e docente dell'Università di Pavia, proposto dal PD, dall'Ateneo e dalla Fondazione Banca del Monte, e della dottoressa Francesca Compiani, indicata da un gruppo di medici. Queste dunque le scelte nel ventaglio di 17 proposte, arrivate giovedì sera in capigruppo. Non sono mancate, come di consueto, le polemiche per alcune esclusioni eccellenti, ma non si tratta di una novità. Adesso toccherà il Consiglio Comunale, convocato per lunedì 30, ratificare le scelte, prima delle celebrazioni, in forma ridotta a causa del Covid, del prossimo 9 dicembre.